blitz dei carabinieri a un rave party ad acate quattro le persone denunciate oltre 200 quelle identificate nascoste tra gli alberi buste con droga non si placano le polemiche sollevate dalle iene che stanno puntando il dito contro la terrazza della casa del commissario montalbano crocetta annuncia che sarà bene monumentale sono state assegnate le bambiere verdi nel territorio ebleo il noto riconoscimento alle spiagge più a misura di bambino esclusi però il litorale modicano e sciclitano si è svolta sabato a scicli la tradizionale cavalcata di san giuseppe ad aggiudicarsi l'ambizioso premio per l'edizione 2016 il gruppo balatelle con un sontuoso manto ben trovati con l'informazione di canale 74 oggi apriamo con la cronaca incontrata a chiappa ad acate blitz dei carabinieri a un rave party quattro le persone denunciate oltre 200 quelle identificate tra loro anche un sorvegliato speciale e rinvenuti tra gli alberi anche alcune buste termosigillate contenenti oltre 3 grammi tra cocaina ashish e marijuana si erano riuniti in centinaia in un terreno in disuso ad acate incontrata a chiappa in un'area abbandonata con annessi capannoni per partecipare a un rave party una segnalazione arrivata ai carabinieri di vittoria che ha però rovinato la festa ai tanti partecipanti e agli organizzatori 204 le persone controllate identificate dagli agenti di età compresa tra i 18 e i 36 anni provenienti dalla provincia di raguse da quelle limitrofe quattro le persone deferite stato di libertà i militari hanno inoltre ispezionato 62 mezzi e segnalato alla procura della repubblica iblea per ricettazione riciclaggio un tunisino di 26 anni trovato in possesso di un motorino con telaio cancellato e privo di targa risultato rubato nell'agosto del 2012 a marina di ragusa ai danni di un giovane del luogo nel corso del controllo è stata riscontrata anche la presenza di un sorvegliato speciale vittoriese di 24 anni per il quale è già stata avanzata proposta di aggravamento della misura di prevenzione cui è sottoposto infine perquisendo l'intera area i carabiniere hanno rinvenuto vicino ad alcuni alberi diverse busse termosigillate contenenti oltre 3 grammi di cocaina, hashish e marijuana individuati e denunciati stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo trattenimento anche i due presunti organizzatori del raduno un 32enne e un 33enne originari rispettivamente di ragusa e vittoria ed entrambi con pendenze penali ora al vaglio degli inquirenti che stanno proseguendo le attività vi è la posizione di tutti i giovani identificati che rischiano una denuncia per invasione di terreni ed edifici sono infine in corso di accertamenti per appurare il canale di approvvigionamento della droga le indagini sono suscettibili di ulteriori sviluppi operativi e non si placano le polemiche in merito al polverone mosso dal programma Le Iene che sta puntando il dito contro la famosa terrazza della casa del commissario Montalbano a punta secca definendola abusiva perché sul demanio e mentre già la regione difende l'edificio definendolo bene monumentale il Codacons ne chiede la demolizione in tanti proprietari mostrano una sentenza del 1995 che ne aveva sancito l'assoluzione sembra una delle indagini del noto commissario Camilleri continua anche in queste ore ad imperversare la polemica sul polverone suscitato dalle Iene sul cosiddetto caso della terrazza abusiva della casa di Montalbano a punta secca da una parte i proprietari dell'immobile, carte alla mano ne certificano l'assoluzione del 1995 da parte del pretore di Comiso chiamato a pronunciarsi sul procedimento di presunto abusivismo in seguito agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate a seguito a sua volta di una segnalazione della Guardia Costiera che nel 1991 attuò denuncia a tappeto su tutto il litorale contro l'abusivismo selvaggio sul demanio marittimo denunce che però portarono poi alla sentenza del Tribunale del 1995 dall'altra non mollano i favorevoli all'abbattimento della veranda considerata abusiva oggi infatti sulla vicenda interviene anche il Kodakons che ne chiede la demolizione con tanto di ruspe dopo le carte portate alla luce dalla trasmissione le Iene dalle quali emergerebbe un'ordinanza di demolizione risalente però al 1991 ad oggi non eseguita relativa proprio alla terrazza più famosa della televisione italiana il Kodakons ha deciso di passare le vie di fatto e chiedere l'intervento delle ruspe per porre fine a qualsiasi abuso edilizio un atto forte anche contro il governatore Rosario Crocetta che ieri si è espresso sulla vicenda assicurando che il luogo ormai simbolo della sicilianità in tutto il mondo sarà tutelato come vincolo monumentale insomma dalla regione un segnale forte come a dire giù le mani anzi le ruspe da quel luogo così apprezzato e famoso a livello internazionale grazie proprio alle vicende del commissario Montalbano e se fosse un caso tra le mani del famoso commissario e dei suoi di certo non si farebbe ingannare da tanto polverone mediatico cercando invece le motivazioni di chi ancora una volta tenta di screditare il territorio ebleo in particolare Santa Croce Camerina che ha trovato un forte riscontro turistico dalla nota serie tv e dai libri di Camilleri a qualcuno pare non vada proprio giù ci sarebbe di che indagare in altre direzioni a Monteluse per il nostro Montalbano e sono state assegnate le bandiere verdi anche nel territorio ebleo la provincia di Ragusa è la più gettonata dei pediatri che assegnano annualmente il noto riconoscimento alle spiagge più a misura di bambino esclusi però il litorale modicano e ciclitano tante bandierine verdi svolazzeranno durante l'estate sul litorale ebleo partendo da Santa Maria del Focallo per arrivare a Punta Secca sono numerose le bandiere verdi assegnate alle nostre spiagge sono i vessilli annuali che contraddistinguono le cosiddette spiagge a misura di bambino segnalate dall'Associazione Nazionale dei Pediatri il territorio di Ragusa è il più alto numero di siti segnalati in tutta la Sicilia Casuzze, Punta Secca, Scoglitti, Caucana, Santa Maria del Focallo, Marina di Ragusa Pozzallo sia a Pietrenere che a Raganzino in Italia in tutto sono 134 le spiagge che hanno ricevuto il riconoscimento per quest'anno i parametri presi in considerazione sono diversi la qualità delle acque vicino alla riva la sabbia pulita è preferibile rispetto ai sassi la presenza di bagnini con grande attenzione per la sicurezza e ancora la presenza di gelaterie e altri locali ad assegnare la bandiera verde sono i pediatri un riconoscimento che segna il passo in termini di qualità e fruibilità per le famiglie e quindi anche da un punto di vista turistico sono stati esclusi dall'assegnazione sia il litorale modicano che quello ciclitano non ritenuti quindi idoni per essere a misura di bambino secondo i pediatri almeno ci si chiede ovviamente come sia possibile che ad esempio Marina di Modica che parrebbe rientrare in tutte le caratteristiche richieste sia stata esclusa domandandosi quindi i motivi dell'esclusione se l'amministrazione di Modica si sia adoperata nei tempi utili per presentare domande e documentazione e per quest'estate sul litorale Ibleo svento la bandiera verde non a Modica però e continua l'impegno della Polstrada di Ragusa nelle scuole del territorio Ibleo per sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale due progetti attivi diretti alle scuole primarie e secondarie e agli istituti superiori l'obiettivo è ridurre il numero delle vittime per incidente stradale che rappresenta ancora oggi la principale causa di morte tra i più giovani anche quest'anno torna il progetto di educazione stradale organizzato dalla Postrada Ragusa Icaro 2016 allo scopo di sensibilizzare i più giovani verso la cultura della sicurezza giunto alla sedicesima edizione quest'anno il programma si rivolge sia agli alunni delle scuole primarie e secondarie individuate dall'ufficio scolastico provinciale di Ragusa per un uso della bici in sicurezza i numeri delle vittime della strada in provincia di Ragusa si mantengono costanti 20 nel 2014 e 21 nel 2015, già 4 nei primi tre mesi di quest'anno e spesso ad essere coinvolti sono i cosiddetti utenti deboli, pedoni e ciclisti per questo gli agenti della polizia stradale di Ragusa hanno avviato sin dal mese di gennaio in diversi istituti scolastici della provincia un programma di formazione che vede coinvolti bambini ed i genitori il corso è incentrato sulla visione di video tutorial che illustrano comportamenti corretti e scorretti e su intervista a personaggi significativi e al loro rapporto con la bicicletta la visione di questi filmati e cartoni animati evidenzia come sia più sicuro viaggiare sulle strade utilizzando il casco, le luci anteriori e posteriori sulle bici, così come i campanelli gli agenti inoltre insegnano ai bambini come indossare correttamente il caschetto e suggeriscono loro di indossare delle pettorine fosforescenti per essere più visibili alla fine dei corsi è prevista una manifestazione finale a Ragusa il prossimo 21 maggio in collaborazione con la federazione ciclistica italiana e con gli organizzatori della Marathon Parco degli Iblei il progetto Farono strada di sicuro, giovani artisti per la sicurezza stradale giunto alla terza edizione si rivolge invece agli studenti delle scuole superiori della provincia Iblea anche questa iniziativa ideata dalla polizia stradale di Ragusa con la collaborazione del provveditorato agli studi, della consulta provinciale studentesca e del maestro Peppa Rezzo punta a sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza stradale ricordando che ancora oggi la principale causa di morte per i giovani di tra compresa tra i 15 e i 30 anni è l'incidente stradale il progetto in particolare si propone di selezionare dei giovani che si distinguono nel campo artistico per contribuire a lanciare un forte e diretto messaggio attraverso esibizioni artistiche, anche in questo caso in programma un evento finale il prossimo 14 aprile alle ore 9 e 30 al Palatenda di Ragusa nel corso del quale gli studenti selezionati insieme ad altri artisti si esibiranno per contribuire a diffondere messaggi sulla sicurezza stradale ed in particolare che l'uso corretto del casco e delle cinture di sicurezza salva la vita ed è stata nominata la segreteria comunale dei giovani democratici di Ragusa gli incarichi sono stati affidati dopo un intenso periodo di incontri riguardo le condizioni della giovanile in città e le prossime iniziative da portare avanti i componenti della segreteria sono Giuseppe Prato, vice segretario responsabile dell'organizzazione Giuseppe Tuè, tesoriere, Carlo Giannone che si occuperà di ambiente Francesco Muccio di cultura, Giulia Calabrese di scuola e formazione Giorgio Spadar di Sport il segretario Enrico Larosa ha spiegato che la squadra già affiatata a breve realizzerà un'iniziativa per gli studenti delle superiori e punta nelle prossime settimane a coinvolgere la cittadinanza con alcune proposte si è svolta sabato a Scicli la tradizionale cavalcata di San Giuseppe con una grande folla di persone come ogni anno presenti per la folcloristica manifestazione ad aggiudicarsi l'ambizioso premio per l'edizione 2016 è stato il gruppo Balatelle con un sontuoso manto raffigurante San Giuseppe con il Bambin Gesù e anche l'edizione 2016 della cavalcata di San Giuseppe a Scicli è andata in porto il primo premio è stato vinto dal gruppo Balatelle con un sontuoso manto raffigurante San Giuseppe con il Bambin Gesù una struttura imponente arricchita da un suggestivo baldacchino corredato da ciaccare e una croce all'apice al gruppo Balatelle è andata la scultura creata dal maestro Candiano che ogni anno viene custodita per 12 mesi dal gruppo vincitore il premio stampa assegnato da una giuria di giornalisti è andata invece al gruppo Alfieri per i giurati non è stato di certo facile scegliere una tra le circa 40 bardature iscritte alla cavalcata quest'anno il livello dei lavori è stato molto elevato con manti curatissimi e idee originali grazie al fatto che i disegni sovente sono curati da veri e propri artisti più o meno noti l'edizione 2016 della cavalcata ha presentato molti più cavalli bardati rispetto al recente passato ma meno cavalli non bardati causa l'ordinanza numero 67 del 31 marzo emessa dalla commissione straordinaria attraverso la quale si è imposto il divieto di circolazione nel centro urbano di cavalli non autorizzati in merito hanno fatto discutere molto i requisiti richieste per concedere tale autorizzazione secondo tanti troppo restrittivi altra ordinanza emessa dai commissari è stata la numero 68 sempre del 31 marzo con la quale è stato imposto il divieto all'accensione dei tradizionali falò di San Giuseppe che hanno da sempre accompagnato il passaggio della sacra famiglia nelle principali vie della città ritornando ai premi la giuria ha assegnato anche dei riconoscimenti per la miglior curera andata al gruppo devozione e per il miglior pony il premio è andato al gruppo tradizione e fantasia grandissima soddisfazione ma purtroppo la cosa più bella è perché è un'annata davvero difficile però non è che venga il migliore per me vince la partitura più completa rappresentando la festa vera e propria del party arco scusi party arco e un due concerti sabato e domenica hanno incantate il pubblico del garibaldi protagonisti mod sul palco insieme a tanti artisti d'eccezione da tio zanotti al di curreri a flacido salamone per citarne solo alcuni un doppio appuntamento sabato e domenica al teatro garibaldi un bel tuffo nella buona musica di quelle che fanno vibrare le corde dell'anima e magicamente azzerano le generazioni protagonisti mod e il progetto modality con i sette brani che dagli stati uniti ora prodono a modica antonio modica rimane l'istrione e l'anfitrione della scena e insieme a lucio d'angelo al basso stefano ruscica alla batteria claudia d'angelo vocalist con nadia marino e alessandra ira conquista il garibaldi tanti gli ospiti d'eccezione da fio zanotti gran musicante di celentano baglioni pavarotti e mia martini fino al figlio max compositore e arrangiatore di renato zero li curreri pianista planetario e compagno di palcoscenico dei grandi del jazz americano e poi ancora placido salamone chitarrista arrangiatore e compositore di grandissimo talento andrea giuffredi prima tromba dell'orchestra rai e massimo zagonari la miscela non poteva che essere esplosiva anche perché il fuoco alle polveri è un assortimento interpretativo di cover cult di brani che hanno scritto la storia della musica degli anni 70 80 e 90 l'entrata di fio zanotti è una parentesi a sé affascina con il suono del suo organetto con un omaggio a ennio murricone c'era una volta il west e a lucio d'alla 4 marzo 1943 e poi storia d'amore di celentano che ha dato inizio al resto di un viaggio musicale che ha infiammato il pubblico tanto che il vecchio teatro garibaldi si è visto trasformare i palchi e il loggione in spazi dancing con gli spettatori ad accompagnare i ritmi ballando e battendo le mani bei momenti in cui palcoscenico e pubblico sono diventati un tutt'uno protagonisti di una serata che ha omaggiato la grande musica senza sbavature o eccessi è un weekend da incorniciare quello vissuto dalla scherma modica Mazzara del Vallo dove si è svolta la terza e ultima prova del circuito regionale Under 14 e dove contemporaneamente si assegnavano i titoli regionali di categoria circa 50 gli atleti modicani che nella due giorni mazzarese hanno affollato le pedane in tutte le categorie di spade e fioretto che sarebbe stato un fine settimana particolarmente benevolo per i colori modicano e lo si è avvertito fin dalla prima giornata di gara riservata alla categoria ragazzi allievi di fioretto con gli schermidori modicani che dimostravano sicurezza e determinazione sin dai gironi eliminatori e terminavano con una straordinaria tripletta oro per Samuele Scapellato argento per Jacopo Zaccaria e bronzo per Nicola Antoci questi ultimi due ancora nella categoria ragazzi è un ottimo sesto posto per Luca Iemmola la sua prima finale regionale in carriera e continuiamo con lo sport la squadra di basket femminile della Passalacqua Spedizioni la Virtus Eirene ha vinto la Coppa Italia grande festa anche a Ragusa lo scorso fine settimana è stato per la squadra di basket femminile Passalacqua Spedizioni un weekend intenso di gare e soddisfazioni la squadra non solo è riuscita ad arrivare in finale nella corsa per la Coppa Italia ma è anche riuscita ad aggiudicarsela è la loro prima Coppa Italia grande traguardo della loro storia sportiva la squadra è stata impegnata nel Final Four con due importanti partite la semifinale sabato contro Venezia e data la loro vittoria domenica ha dovuto sfidare Schio vincitrice dell'altro match semifinale contro Lucca l'incontro di sabato ha visto sul campo una squadra che a detta dell'assistant coach è partito con il piede giusto sin dall'inizio della gara riuscendo così a primeggiare nella sfida finale per un punteggio ultimo di 63 a 58 le giocatrici sono riuscite a conquistare un buon vantaggio giocando in dieci per proprio seguire nel terzo quarto con una rotazione delle giocatrici c'è stato qualche momento critico ma questo non ha comportato grandi cambiamenti riuscendo così a portare in campo tutte e dieci le ragazze a questo successo è seguito il match finale con Schio giocato proprio in casa di quest'ultima nel pomeriggio di ieri una gara che è stata subito in salita da un punteggio d'esordio non favorevole ad un successivo equilibrio per raggiungere un finale vittorioso per un punteggio di 70-67 il pubblico dei tifosi bianco-verdi è esploso di gioia soddisfatto dei traguardi raggiunti dalle aquile il presidente della società ragusana ha commentato la vittoria una coppa Italia che ha un sapore bellissimo ha detto adesso il prossimo traguardo è recuperare il campionato con una nuova sfida fissata per mercoledì sera al Palaminardi per provare così a risalire la testa della classifica bene per oggi è tutto questo era l'ultimo servizio io vi ricordo che sulla cavalcata di San Giuseppe a Scicli nei prossimi giorni andrei in onda uno speciale di Canale 74 e che potrete rivedere il nostro Tg e i singoli servizi su www.canale74.com grazie per l'attenzione e arrivederci grazie per l'attenzione